Ma se Mirko Cudini fosse tornato prima sulla panchina della Fidelisandria, ora la classifica sarebbe diversa. I sé e i ma non fanno la storia, figurarsi quella del calcio, ma lo score fatto registrare dall'allenatore di Porto Sant'Elpidio nelle cinque partite giocate da Dalmazzi e compagni dal momento del suo subentro a Bruno Trocini hanno agitato gli interrogativi della piazza in tal senso. La vittoria sulla Turris, coincisa con il ritorno al successo in casa a più di quattro mesi dall'ultima volta, è stata la seconda del Cudini bis dopo il 2-1 sul campo del Monopoli, seguito a sua volta dai pareggi senza reti contro Crotone e Monterosi e dalla rocambolesca sconfitta di Avellino contro il Giuliano. Fatturato otto punti in cinque gare, media di 1,6 per partita, di gran lunga superiore a quelle incassate nelle tre precedenti gestioni Cudini, Dudu e Trocini, sempre inferiori al punto per incontro giocato. L'ex allenatore del campo basso ha cambiato i connotati alla Fideris con poche ma efficaci mosse. Ha riportato al centro del progetto Don Bolsius decisivo con un assist e tre gol nelle ultime due partite. Ha dato fiducia a chi fino a quel momento era stato impiegato con il contagocce, vedi alle voci Marino e Castellano, o messo nel dimenticatoio come Paolini e Ventola. E così ha restituito energie mentali a una squadra che dava la sensazione di essere scarica e alla deriva, e che adesso invece ha ancora speranze di poter lottare per i play-out. Il quintultimo posto è distante sei punti dal penultimo, margine che oggi consentirebbe la disputa degli spareggi salvezza. Così l'imperativo per i prossimi 270 minuti è sorpassare la Viterbese, che precede l'Andrea di una lunghezza al diciannovesimo posto. Il testa a testa partirà sabato con la trasferta di Castellammare di Stabia, da affrontare senza gli squalificati Savini, Paolini e Candellori, e con il dubbio Arrigoni. Battendo una Juve Stabia comunque in salute e in corsa per i play-off, la Fidelis avrebbe la possibilità di mettere pressione ai laziali, attesi in serata dal derby contro il pericolante Monterosi. Nelle successive due partite la Fidelis ospiterà l'Avellino e andrà a Latina, mentre la Viterbese sarà di scena sul campo della Turris e in casa contro la Virtus Francavilla. Tre giornate ancora per scrivere il finale di un campionato ricco di bassi e povero di alti, trama che la Fidelis del Cudini 2.0 ha dimostrato di voler cambiare.